Musica Dunque, allora, qui vediamo tutti gli ingredienti. Io incomincio in maniera abbastanza anticonvenzionale, se vogliamo, per un riso, in quanto non inizio con la cipolla, ma inizio solamente con un pezzetto di burro. Io uso un semifino padano, che è un riso piccolo e non ricco di amido, come contrariamente sono altri risi tipo carnaroli. Lo bagno comunque con un po' di vino bianco. Lo faccio asciugare, altrimenti aggiungi sempre il brodo fino a quando arriva alla cottura. Il brodo che deve essere sempre salato, quasi al punto giusto, io lo tengo leggermente indietro di sale, ma pochissimo, perché il riso possa cuocere già saporito. Faccio cuocere la cipolla in aceto e vino bianco. Quando è quasi completamente ridotto, aggiungo il burro ed emulsiono, e faccio praticamente un verblan o un burro lantesimo, che conserverò per mantecare il riso alla fine. Tu usi solo stigmi di zafferano? Solo stigmi di zafferano, sì. Un formaggio che aggiungo non è mai molto, solamente proprio per dargli un pizzico di sapore, ma non è determinante. Io lo tengo poi leggermente blando alla fine, in modo che aggiungendo il burro si crei un'emulsione, e visto che non sfrutto l'amido del riso molto poco, perché il riso ne ha poco, devo creare un'emulsione, attraverso il brodo e il burro. E questa è la sorpresa, la foglia d'oro 24 carati? Questa potete immaginare, non è che dia niente al sapore, ma comunque... È quasi tutto. In un'epoca in cui si cerca di abbellire tutto, abbiamo cercato di abbellire anche un riso alla zafferano. Un parere sulla cucina italiana, a che punto siamo? Anche a livello internazionale. Un parere di un grande cuoco francese che è Paul Bocchius, che quasi 30 anni fa disse la cucina francese decadrà quando i cuochi italiani si renderanno conto del patrimonio di prodotti e di ricette che hanno. Diciamo, nella gestione del ristorante è importante il ruolo dello chef, ma è importante anche il personale di sala, dal maître al sommelier. Quando ero bambino, bambino, ragazzino, sono cresciuto in un albergo, pensavo che la cucina fosse all'80%, perché avevo dei grandi cuochi, devo dire, mio padre era bravo. Poi col tempo sono andato in Francia, la cucina era il 60%. Oggi dico che se non è il 60% la sala, è anche il 50%, perché è una buona comunicazione, un buon ricevimento, questa affabilità che abbiamo bisogno tutti. Se non c'è quella, il cuoco può fare qualsiasi cosa. Cosa si sente di dire ai giovani chef o chi intraprende questa professione? È il lavoro più difficile del mondo, perché se pensiamo che diamo da mangiare alla gente, pensa che responsabilità abbia bisogno.